Un semplice controllo che solo per poco non si è trasformato in tragedia. Questo è quanto ha denunciato un imprenditore 78enne di Torchiara che lo scorso febbraio, durante una verifica compiuta da due carabinieri della locale stazione, si è visto sfiorare da un colpo di arma da fuoco sparato proprio da uno dei due militari. La procura di Vallo della Lucania sta svolgendo tutti gli accertamenti dopo l'esposto presentato dall'uomo. Secondo quanto avrebbe raccontato, l'imprenditore, che aveva denunciato ai militari le minacce ricevute da un giovane per una mancata fornitura di piastrelle, avrebbe ricevuto in casa la visita dei carabinieri che avrebbero cominciato a controllare le sue armi, alcuni fucili, una beretta calibro 6,35 custodita nel comodino di casa e i certificati necessari per il possesso delle stesse. A quel punto uno dei due carabinieri avrebbe impugnato la pistola, tolto la sicura, tirato il carrello e armato il cane, mantenendo l'arma d'altezza uomo, stando sempre a quanto riportato nella denuncia. Sarebbe poi partito inavvertitamente un colpo che avrebbe sfiorato l'addome del controllato e avrebbe centrato il televisore. Attimi di paura, quelli vissuti dalla famiglia dell'imprenditore, a cui poi sarebbero state sequestrate anche le armi perché custodite in modo inadeguato. Alla fine l'uomo, amareggiato perché da vittima di un'aggressione, pronta a chiedere protezione, era diventato oggetto di controllo e sequestro da parte dei carabinieri, con un rischio sull'incolumità sua e della propria famiglia, ha deciso di denunciare l'accaduto. Sulla vicenda la procura di Vallo della Lucania sta cercando di fare piena luce per accertare quanto denunciato e eventualmente individuare le ipotesi di reato.